Tutto il collegio è solo su RaiPlay. Scarica l'app. Sono Alessandro, ho 16 anni e il mio motto nella vita è che per essere insostituibili bisogna essere diversi. Gesù è un esempio di vita per me e mi accompagna sempre. Faccio volontariato per 6 associazioni diverse. Io sono nel cuore della chiesa e sono un po' ragazzo d'altri tempi. Alessandro è svincolato dalle mode, è un ragazzo di cuore. Con i professori ho un bel rapporto, tanto che con il mio prof di italiano. All'attivo ha fatto dei santini, lui non lo sa, però sono qui. Alessandro è un ragazzo molto originario nel suo genere, sono un suo fan. Penso che in collegio Alessandro si farà notare per la sua creatività e per la sua originalità. Grazie. Grazie.